Mista è partita finita 2-1, i primi due gol messi a segno nel primo tempo, poi partita dominata, l'avevate preparata così? Bravo, secondo me hai detto la cosa giusta, è una partita dominata, peccato alla fine che ci hanno espulso un ragazzo che aveva tra l'altro fatto una gran partita, il nostro 2004 Mancuso, credo per un fallo del tutto involontario, quindi ci siamo un po' sbilanciati gli ultimi secondi, abbiamo preso quel gol che ci ha un po' rovinato la festa completa, però come hai detto bene te, è partita dominata, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, potevamo fare molti più gol, quindi oggi siamo contenti, i ragazzi sono stati veramente molto bravi. Tra i punti importanti che danno sia morale e comunque gli fanno scalare di produzione. Sì, ma noi sappiamo benissimo come l'anno scorso che dobbiamo soffrire fino alla fine per salvarci, l'eccellenza per noi è come la Champions, quindi dobbiamo faticare fino all'ultimo, però siamo partiti bene, eravamo un po' dispiaciuti per il 4-0 di domenica perché era un risultato forse un po' troppo largo per la prestazione, seppur non buona, che abbiamo fatto, quindi volevamo rifarci e ci siamo riusciti. Buon tono!